Benvenuti ragazzi su AspaOlt, ragazzi, andiamo a fare una bella guerra Dai, devo facciamo questa mappa, raga No, poi, dai, sono cinquezza, raga E' ancora l'inizio, raga E' l'inizio di sto gioco, io E vi ricordo una cosa, ragazzi Di iscrivervi al canale, attivare la campanellina Lasciate un commento e seguite i miei su Instagram E comunque, cominciamo, ragazzi Let's go Bella macchina che come 3, 2, 1 Subito turbo, ragazzi, subito turbo Facciamo fuori questa macchina Facciamo così, oh, andiamo così, ragazzi Dai, ragazzi, adesso fa Pezzo di una buona donna Dai, ragazzi, cominciamo, stagare Tribbriamo qua Facciamo che spede qui siamo, ora dai, ragazzi Ragazzi, lasciate nei miei commenti Semi, Anissa, Ingerissa, Io, Inzino Io non ti fanno sulla squadra Ok, ragazzi, andiamo a presto Il terzo posto, ce la siamo presi, ragazzi Siamo subito il turbo, ragazzi Siamo subito il turbo Prima posto, ragazzi Nessuno, voglio proprio recuperarmi, ragazzi Voglio proprio recuperarmi, voglio proprio recuperarmi Voglio proprio recuperarmi Io proprio tutto il turbo, ragazzi Bene, adesso il turbo, ragazzi Il turbo e il turbo Ok, ragazzi, andiamo adesso con il turbo Siamo una qua Svegliamo tutto Vai, let's go turbo massimo, ragazzi Svegliamo qua, ragazzi Dai, ragazzi, ci riusciamo a vincere questa partitezza Ragazzi, se mi volete altri video di, insomma, di Clash Royale, Brawl Stars o di Asp 8 Lasciatemi un commento o mi piace Che mi porterò tante gare di prove online Che volete, ragazzi A me non è un problema Registerò i video E si verranno Ma siamo alle 3 Capite, ragazzi Alle 3, alle 3 e mezza Non si verranno i video Dai, ragazzi, quasi la fine Facciamo questo giro e abbiamo finito, dai, ragazzi Ichonne, vediamo, ragazzi Dai Guarda, rai Come si' viste, la io va a prendere in una 0 to Non sono gli venti nomi, io li vedo, quindi ci penso Chi butto una squadra Io ti取 tilo l'Italia E' la figa bella Garnieratemi È la figa ragazzi Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per un prossimo video da qua, da Fringbok.